Il bello non sta laddove appare ma dove non lo si cercherebbe mai. La signora bellezza sta nell'industria che ci permette di diffondere i progetti e ci dà la libertà di scelta. È uno dei passaggi dell'intervento dell'architetto e designer Michele De Lucchi durante l'Alexio Magistralis che si è svolta ieri pomeriggio nella sala tridente del Palazzo del Mezzogiorno della Fiera di Levante. La lezione è stata introdotta da Gianfranco Viesti, presidente della Fiera, secondo il quale quest'incontro ha rappresentato una riflessione sull'architettura e sul bello, oltre a un'occasione per il rilancio della Fiera e un inizio di un processo di apertura verso collaborazioni più ampie. Fare design, ha detto ancora De Lucchi, è comunicare ciò che sente la società e ciò di cui le persone hanno bisogno. Il presidente della regione Vendola ha commentato così l'Alexio Magistralis dell'architetto. Ascoltare le sue parole è rilevante per chiunque debba coniugare bellezza e politica.